Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A1 resta coda in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna per lavori. Sempre in A1 in direzione Roma, coda per traffico tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud. Ci spostiamo in Fipili per lavori, coda di due chilometri in direzione mare tra Ginestra e Montelupo in carreggiata opposta, quindi verso Firenze resta un chilometro di coda tra Empoli e Montelupo. Ricordiamo che in questa fase dei lavori tra Montelupo ed Empoli Est fino al 30 maggio è previsto il doppio senso di marcia nella carreggiata verso Firenze con chiusura della carreggiata in direzione mare. Se nemmeno oltre la chiusura dello svincolo di Montelupo in direzione mare sia in ingresso che in uscita in direzione Firenze e solo in ingresso Fipili. Sempre in Fipili troviamo coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Liborno. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!